Sono stati circa un centinaio tra funzionari, volontari e rappresentanti delle forze dell'ordine a prendere parte a Montecucco 2023, una a tre giorni di esercitazioni sul Montecucco organizzata dai comuni di Sigillo, Costacciaro, Fossato di Vico e Schegge Pascelupo con il supporto di ANCI Umbria Prociv in collaborazione con il gruppo di protezione civile Montecucco di Sigillo, ANC, Nucleo Regionale Volontariato Protezione Civile Umbria e Misericordia di Fossato di Vico. Molteplici le attività messe in campo al Montecucco, tra prove di soccorso, assistenza sanitaria del volontariato locale afferente a tutti il coordinamento Alta Umbria, formazione a tecnici ed amministratori alla quale hanno partecipato anche i funzionari della Prefettura di Perugia e i volontari di servizio civile di ANCI Umbria. Uno dei momenti più rilevanti è stato l'attivazione dei COC per posti di comando che ha coinvolto attivamente oltre ai sindaci tutti i responsabili delle funzioni di supporto e volontari con attività pratiche sul territorio. Dobbiamo testare la nostra reattività, dobbiamo soprattutto cercare di creare una sinergia tra i vari gruppi di volontariato e serve essenzialmente anche alle strutture comunali per capire le procedure perché questo è fondamentale, perché avere un'idea chiara, avere soprattutto la reattività è importante in tutto questo per cui quando c'è un COC che reagisce immediatamente mette poi nella condizione di intervenire in maniera precisa e in maniera anche efficace. Questa è una forma di integrazione di rete di sinergia tra varie associazioni e soprattutto è per loro formatori una sorta di sfida perché ovviamente vanno sempre tenuti i svegli perché devono capire che le emergenze ci sono. La popolazione è fondamentale, è un mondo che cambia. Ormai le emergenze sono sempre più, purtroppo si verificano e quindi è importante che ci sia questa sensibilizzazione, questa promozione di questa cultura. Io non rischio, anche con le scuole abbiamo fatto un bellissimo progetto. A fine esercitazione è emerso che i piccoli comuni, nonostante abbiano poche risorse in termini di uomini e mezzi sono comunque in grado di rispondere all'emergenza. Altro aspetto fondamentale della manifestazione è stata la diffusione dei piani di protezione civile alla cittadinanza sia con il coinvolgimento degli studenti che con la divulgazione conoscitiva e informativa in piazza nei gazebo allestiti dai quattro comuni. La tre giorni ha dato spazio anche al debriefing, ovvero la valutazione finale del lavoro svolto durante il quale è emersa la necessità di curare sia il legame tra comune e volontariato che la diffusione dei piani di protezione civile alla cittadinanza. La manifestazione si è conclusa con la celebrazione del trentennale del gruppo di protezione civile Montecucco di Sigillo. Siamo partiti come gruppo comunale. Dopo da lì, con gli eventi, subito dopo il 97, che è proprio dove il gruppo si è forgiato, diciamo, dal punto di vista operativo, abbiamo trovato la nostra venda proprio dall'operatività del gruppo. In quei tempi il terremoto bussava forte, di conseguenza siamo un po' attrezzati con dei mezzi, scavatori, bob, pick up, eccetera, e siamo partiti per l'emergenza che veniva, sia in Umbria che anche in Italia. Siamo andati anche all'estero, siamo andati in Albania. Stiamo cercando di fare entrare dei giovani perché la cultura del volontariato è una cultura che fa bene. Bisogna conglogere per i giovani e adesso noi ci stiamo dando da fare poter portare dentro e si istituire, diciamo, i vecchietti con i nuovi. Piano piano speriamo di farcela perché questo è il nostro obiettivo.